Il segretario di Stato americano John Kerry è stato multato di 50 dollari per non aver spalato la neve dal marciapiede sul lato della sua casa. La scorsa settimana tutto il nord-est degli Stati Uniti è stato colpito da forti innevicate. Kerry ha dichiarato che pagherà volentieri quanto deve e che spera che questa sia l'ultima bufera dell'anno.